Insomma, per un castellammarese Vincenzo Ancona è, come dire, Castellammare stessa, l'aria che rispediamo? Sul piano letterario ha lasciato una grande eredità perché diciamo che molti dei poeti castellammarese attuali sono degli epigoni di Vincenzo Ancona. E' stato anche un artista, già perché ha fatto delle miniature di personaggi e di gruppi operate con fili di telefono sottilissimi. Questi lavori addirittura sono esposti in un museo degli Stati Uniti d'Averia, di New York. Questo poeta ha avuto una sua fortuna nel campo artistico perché è famoso già da tantissimi decenni. Cioè lui la fama se l'è creata, sta da facendo. Quando ancora prima di pubblicare recitava le sue poesie agli amici, nelle feste, nelle occasioni. E chiaramente ospitare una manifestazione del genere, dando spazio ai ragazzi delle varie istituzioni scolastiche del territorio per onorare la figura di un personaggio castellammarese è chiaramente l'obiettivo fondamentale della scuola, quello del dialogo con tutto il contesto culturale e sociale di riferimento.